Salve e benvenuto al video introduttivo del nostro localizzatore satellitare. Nel corso dei prossimi 10 minuti presenterò alcune delle funzioni del sistema e spiegherò come utilizzarle per gestire in maniera più efficiente un'intera flotta di veicoli. Il video dovrebbe anche servire a dare un'idea di come il sistema è stato concepito, privilegiando la facilità di utilizzo e offrendo al tempo stesso un'ampia gamma di funzionalità. Prima di esaminare il sistema più da vicino però è bene dare uno sguardo all'installazione di alcuni dispositivi, in quanto ciò costituisce una prima tappa obbligatoria. Vediamo come avviene l'installazione su una BMW Serie 3. Il pannello di accesso è ubicato sul lato del conducente. Il dispositivo è installato sotto il cruscotto e il cavo è collegato alla porta OBD2. Il processo di installazione è semplice e non dovrebbe richiedere più di 15-20 minuti sulla maggior parte dei modelli di automobili. Esaminiamo ora l'installazione su un furgone Mercedes Sprinter. Il pannello di accesso si trova sul lato del passeggero, vicino alla portiera. Il cavo è collegato alla porta OBD2 e il dispositivo è installato dietro il pannello. Ad installazione completata occorre riposizionare il pannello. Ed ecco infine come avviene l'installazione su un camion Volvo Serie FH. In questo caso è necessario rimuovere il coperchio della scatola porta fusibili per procedere con l'installazione del dispositivo. L'installazione richiede in genere dai 20 ai 30 minuti e al termine basta semplicemente riagganciare il coperchio alla posizione iniziale. Ora che i dispositivi sono stati installati, possiamo dare uno sguardo al funzionamento del sistema. Incominciamo con la funzione Live Map. È possibile vedere immediatamente la posizione di tutti i veicoli della propria flotta. Il sistema si aggiorna ogni 30 secondi ed è dunque in grado di offrire una visualizzazione davvero in tempo reale. I vari colori corrispondono ai differenti gruppi di veicoli. La configurazione dei gruppi è semplice e lo spostamento dei veicoli da un gruppo all'altro è un'operazione altrettanto intuitiva. L'icona quadrata indica che il veicolo è fermo mentre il triangolo significa che uno dei veicoli è in transito. Per facilitare ulteriormente l'utilizzo della mappa i veicoli multipli sono stati raggruppati ed è possibile aprire ciascun gruppo facendo clic su di esso. Facendo clic su una delle icone corrispondenti ai singoli veicoli è possibile accedere a informazioni più dettagliate come posizione attuale, velocità e direzione di marcia. Da questa schermata è possibile visualizzare ulteriori informazioni sul veicolo e sull'autista. Apriamo ad esempio Storico viaggi odierni. Qui vediamo che l'autista ha iniziato appena dopo le 8 e ha terminato poco prima delle 14. Il tragitto è visualizzato sulla mappa. La funzione successiva ci permette di calcolare il tempo necessario all'autista per raggiungere una determinata destinazione. Per fare un esempio, vediamo quanto tempo dovrebbe impiegare il veicolo per arrivare a Milano. Come si può vedere, l'autista si trova a circa 40 minuti dalla propria destinazione. Questa funzione permette di comunicare al cliente l'orario di consegna della merce grazie all'accesso alle informazioni in tempo reale. Selezionando Visualizzazione strada corrente è possibile addirittura vedere dove l'autista ha sostato per il pranzo. Oltre alla visualizzazione standard è possibile anche aprire la mappa in modalità satellite e accedere agli ultimi aggiornamenti sul traffico. Il riepilogo offre la possibilità di cercare veicoli specifici o visualizzare esclusivamente determinati gruppi. Questo era Live Map in breve. Passiamo ora allo storico viaggi. Da qui è possibile selezionare semplicemente l'autista o il gruppo di autisti che si desidera monitorare. Proviamo a scegliere un autista. Selezioniamo Stefano Biondi. Eccolo. Ora non ci resta che selezionare l'intervallo temporale desiderato. Scegliamo ad esempio i sette giorni precedenti. Così facendo si apre la tabella riassuntiva. Da qui vediamo che Stefano ha compiuto 40 viaggi per un totale di oltre 10 ore di guida e quasi 342 chilometri percorsi. È possibile anche visualizzare informazioni sui singoli viaggi facendo clic sul pulsante blu. La schermata mostra tutti i viaggi compiuti dall'autista entro l'intervallo di tempo selezionato. Facendo clic sui pulsanti verdi è possibile visualizzare anche il tragetto esatto. Ma torniamo alla tabella riassuntiva. Un'altra utile funzione dello storico viaggi è l'area utilizzo quotidiano. Da qui è possibile vedere a colpo d'occhio gli orari di inizio e termine del viaggio in base alla giornata. Il verde indica i periodi in cui il veicolo era in movimento mentre il rosso mostra quando il veicolo era parcheggiato. Questo report è estremamente utile per esaminare la produttività del veicolo e dell'autista. È disponibile anche una funzione salva da tutte le schermate del report. Per salvare un report sarà sufficiente attribuirvi un nome e premere il pulsante di conferma. Se si desidera invece programmare un invio periodico del report occorrerà specificare l'indirizzo e-mail a cui si desidera venga recapitato. Selezionare infine la frequenza di invio. A questo punto è possibile indicare se si desidera anche ricevere in allegato il dettaglio delle transazioni. E questo è tutto sullo storico viaggi. Torniamo ora alla schermata iniziale per accedere alla sezione prestazione autista. Il report funziona in maniera analoga a quello consultabile dallo storico viaggi. Oggi selezioniamo tutti i conducenti e scegliamo di visualizzare le informazioni per la giornata di ieri. A ciascun autista è assegnato un punteggio fino a 100. 100 corrisponde a un punteggio positivo mentre 0 equivale ovviamente a un punteggio decisamente scarso. Per fornire qualche dato contestuale sul punteggio sono disponibili anche informazioni sulla distanza percorsa e il numero di viaggi effettuati da ciascun autista nel periodo selezionato. Se si desidera esaminare nel dettaglio gli elementi che concorrono al calcolo del punteggio sarà sufficiente selezionare report dettagliato. Da qui è possibile visualizzare il dettaglio dei fattori considerati per l'elaborazione del punteggio ovvero eccesso di velocità, accelerazione brusca e frenata brusca. Sono visualizzati anche i minuti di sosta con motore in folle. Facendo clic sul pulsante rosso da questa schermata è possibile vedere esattamente le posizioni geografiche relative ai vari eventi nonché visualizzare questi ultimi in base alla tipologia. Selezionando l'opzione di visualizzazione su mappa sarà possibile vedere il punto esatto in cui l'evento in questione si è verificato. Per vedere la mappa in modalità Street View sarà sufficiente trascinare l'icona corrispondente. Questa serie di report aiuta a migliorare la condotta dell'autista contribuendo dunque a ridurre i costi operativi della flotta. E questo è tutto su prestazione autista. Vediamo ora la sezione prestazione veicolo. Da qui il cliente ha la possibilità di integrare le transazioni dalla carta carburante ai dati di tracciamento del veicolo. Questa funzione ci consente di fornire informazioni dettagliate sui consumi e identificare i veicoli meno efficienti. Esaminiamo il report nel dettaglio. Selezioniamo nuovamente tutti i veicoli per gli ultimi 30 giorni. La tabella panoramica mostra i livelli di efficienza del veicolo, la quantità di carburante utilizzata e la distanza percorsa. L'area report dettagliato mostra tutte le transazioni di acquisto carburante e i dati di consumo del veicolo prima di ciascun rifornimento. I dati sui consumi sono sempre accurati, poiché le informazioni sulla distanza percorsa vengono ricavate direttamente dal dispositivo di tracciamento. Queste erano le prestazioni dei veicoli. Ora torniamo alla schermata principale per dare uno sguardo all'opzione Perimetri virtuali. La funzione Perimetri virtuali permette di impostare un'area attorno a una determinata posizione sulla mappa, consentendo di monitorare gli spostamenti da E verso il perimetro selezionato. Per configurare un perimetro è sufficiente fare clic sull'apposito pulsante. A questo punto scegliere Cerchia o Personalizzato. Digitare il luogo desiderato. Io sceglierò Brescia. Fare clic su Disegna per creare il perimetro. Selezionare Successivo per terminare. È possibile anche trascinare il perimetro per posizionarlo con esattezza nell'area desiderata. Una volta terminato, selezionare Avanti. Attribuire un nome al perimetro e selezionare il pulsante di conferma. Ora diamo un'occhiata più da vicino agli avvisi. La funzione Avvisi permette di ricevere notifiche quando un autista supera il limite di velocità, sosta con motore in folle, utilizza il veicolo al di fuori degli orari prestabiliti, entra all'interno di un perimetro virtuale o se il dispositivo è scollegato dall'alimentazione. La configurazione degli avvisi è semplice ed è simile alla procedura di creazione dei report. È possibile scegliere di ricevere gli avvisi tramite email o SMS. Dall'area Impostazioni, la funzione Privacy permette di disattivare il tracciamento del veicolo. Si possono selezionare con facilità i giorni e le fasce orarie in cui si desidera attivare la funzione di tracciamento. Fare clic per salvare le nuove impostazioni. Alcuni degli altri report disponibili comprendono chilometraggio privato ideato per facilitare la gestione delle spese. C'è anche scheda attività autista per tenere facilmente traccia delle attività dei vari autisti. Prima di concludere parlerò brevemente della nostra funzione GeoPlus. Questa funzione permette di sapere se qualcuno ha utilizzato la carta carburante quando il veicolo di lavoro non era in uso. Il report mostra infatti la distanza tra il luogo di utilizzo della carta e la posizione effettiva del veicolo e anche la quantità di carburante prelevato. Le informazioni sono visualizzabili anche su mappa. Non ho avuto tempo di esaminare tutte le funzionalità, ma mi auguro che le informazioni fornite siano state sufficienti a offrire una panoramica esaustiva del sistema. È disponibile anche un'app per dispositivi iOS e Android per accedere al sistema da qualunque posizione. L'applicazione è estremamente facile da usare e include ultimissime funzioni, tra cui la possibilità di chiamare o inviare un messaggio direttamente all'autista. Vi ringrazio per aver guardato questo video introduttivo e mi auguro che l'abbiate trovato interessante.